Ragazzi bentornati in questo nuovo video, finalmente dopo il noiosissimo video legato all'interfaccia Unity passeremo a effettivamente sporcarci le mani e a prepararci in quello che sarà la creazione del nostro primo gioco. Quello che vi chiedo di fare adesso è andare nel link che trovate nella descrizione e scaricare il pacchetto che vi ho preparato, che sarà praticamente questo qui, quindi mettete in pausa direttamente il video, cliccate sul link, scaricatelo e una volta che siete pronti ricominciate a revisionare il video. Bene, non appena l'avete scaricato allora questo sarà il contenuto, ve lo mostro a video. Sono in pratica delle cartelle, tutto in maniera abbastanza sistemata perché se vi ricordate vi ho detto che l'ordine è importante, in cui abbiamo dei font che utilizzeremo nel menu, una grafica varia, quindi sia sprite sheet che sprite generiche, essenzialmente sarebbe la grafica che utilizzeremo nel nostro gioco e dei suoni. Tutto questo materiale l'ho preso sempre da OpenGameArt, quindi ringraziamo sempre quei gentilissimi sviluppatori che permettono ad uno come me che non sa fare di grafica, proprio assolutamente nulla, di riuscire comunque a creare qualcosa. Allora, prendiamo queste tre cartelle e mettiamocene sul desktop in modo tale che ce le prepariamo per lavorare con esse su Unity. Apriamo Unity, qui c'è il progetto che avevamo creato nel video precedente, ho eliminato tutto quello che avevamo creato prima, sono sicuro che anche voi siete capaci di farlo. Se non siete capaci di farlo, riguardate il video precedente, oppure vedete un po' di trovare la soluzione perché dovete effettivamente iniziare a prendere la mano. Vabbè, ve lo dico io, basta fare da sto destro, elimina. Allora, clicchiamo sul tab project, vogliamo quindi inserire queste tre cartelle all'interno del nostro progetto. Come vi ho detto bisogna essere il più possibile ordinati, quindi creiamo una bella cartella e chiamiamola imported. Io di solito ho questa convenzione, all'interno della cartella imported metto tutto ciò che viene da fuori da Unity, cioè che non ho creato direttamente su Unity. Prendo queste tre cartelle e le inserisco dentro imported. Proprio basta trascinarle in questo modo. Attendiamo il tempo che finisce e subito dopo ce le troveremo all'interno del nostro progetto pronte per essere utilizzate. Eccolo qua, fonts, graphics e sounds. Andiamo su graphics, perché le grafiche vanno sistemate un attimo. Per default, in pratica, Unity non fa altro che definire il tipo di questi oggetti come delle texture. Noi non vogliamo che queste siano delle texture perché questa è effettivamente una sprite sheet, ovvero un insieme di immagini con dei personaggi e dei tile della nostra mappa. Questo è il proiettile, adesso si vede un po' male, e questa invece è la luce della bocca da fuoco quando avviene lo sparo. Per renderle utilizzabili dobbiamo cambiare la texture type in sprite 2D and UI, scusate, e cliccare Apply. Facciamo questo anche per il proiettile. E facciamo questo anche per questa sprite sheet. Però, essendo che questa è una sprite sheet, quindi è un insieme essenzialmente di immagini varie, qua vi sono dei personaggi, qui vi è addirittura un'auto, dei tile della mappa. Dobbiamo cambiare la modalità delle sprite da single a multiple e, subito dopo, cliccare su Sprite Header. Perché dobbiamo cliccare su Sprite Header? Perché dobbiamo essenzialmente dire a Unity come trattare questa immagine, cioè come recuperare le singole immagini che sono contenute all'interno di questa sprite sheet. Per fare questo dobbiamo cliccare Slice, lasciare praticamente tutto com'è perché va benissimo, quindi Automatic, Enter, Delete, Existing, e fare Slice. In Automatic Unity dividerà e individuerà da solo le singole immagini contenute in questa sprite sheet. Voi potete anche sempre cambiarla nel caso in cui vi sia qualche errore, per esempio qui non ha perfettamente individuato questo... Andiamo se ci riesco, ok, ce l'ho fatta, questo tile. Per il resto mi sembra tutto ben individuato, a me quella macchina, diciamo questa qui non mi interessa, preferisco prendere solo questa qua. Se sono soddisfatto, queste sono a posto, queste sono a posto, ho abbastanza personaggi con cui interagire, posso tranquillamente cliccare Apply. Adesso Unity è in grado di elaborare singolarmente le immagini contenute in questa sprite sheet. Perché si lavora così? Perché essenzialmente si risparmia spazio, quindi si inserisce in uniche immagini in cui si mettano tutte le componenti che ci interessano, quindi pezzi di mappa, personaggi, nemici, eccetera, e poi tramite Unity si suddividono in pratiche immagini tranquillamente utilizzabili. Basta cliccare su questa friccetta e si rende conto di tutte le sprite suddivise che sono trattate singolarmente. Adesso quindi, essendo che abbiamo preparato tutta la nostra grafica, possiamo praticamente creare la mappa di gioco. Clicchiamo su 2D. 2D ci pone la visuale del gioco, essenzialmente la visuale della nostra scena, in quella che sarà la visuale del gioco, che è in 2D. Ricordiamoci che è un 2D top-down e che dopo dovremo fare alcune cose nel settaggio, soprattutto nella fisica. Se vogliamo inserire dei tile, scegliamo il tile che ci piace di più. Per esempio, voglio inserire questo. E lo piazziamo così. Basterà veramente trascinarlo. Qui dobbiamo... Ecco, precedentemente cosa avevo fatto? Avevo cambiato la posizione e la rotazione di questa telecamera. Io voglio resettare tutto allo stato iniziale. Posso mettermi a scrivere qui 0 e mettere tutto al suo posto, oppure clicco questo iconcino qui e faccio reset. E lui praticamente resetta tutto alla posizione iniziale. Allora, vediamo qui come siamo combinati. Sistemiamo un pochettino, in modo tale che è tutto a posto come vogliamo noi. Va bene. E continuiamo a piazzare. Clicchiamo nuovamente 2D e piazziamo la nostra mappa. Quello che adesso si può fare, anziché trascinare nuovamente, è fare un duplica. Il duplica si fa con Ctrl D. Quindi, selezionate l'oggetto e cliccate Ctrl D. Io ne ho creati adesso un paio. Utilizzo il mio tool per spostarli. E inizio a spostarli. Li piazzo, cerco di creare un paio di righe. Poi li posso selezionare tutti e tre cliccate, tenendo premuto Shift. E faccio un duplicato di tutte e tre le righe. Di tutti e tre gli elementi della riga. Continuo ancora. Adesso prendo per esempio questi nella colonna. Vediamo se ci riesco. Posso pure trascinare, come si farebbe, diciamo, in una cartella di Windows. Ecco qua. Facciamolo un altro pochettino un po' più grande. Vediamo un po'. Così direi che va bene. E portiamolo così. Ed ecco qua. Ho creato, diciamo, la mia mappa. Adesso voglio selezionare, voglio portare il mio personaggio. E voglio piazzarlo qui. Vediamo un po' quello che si vede da gioco. Ok. Diciamo che possiamo cambiare un pochettino la visuale. Questo è a piacimento. Giochiamo con la camera più che altro. Ritorniamo nella visuale 3D. Spostiamo un pochettino. E qui con la camera preview possiamo decidere quanto vicino vogliamo rendere il gioco. Va bene. A me piace questa visuale perché si vedono bene, diciamo, i dettagli delle sprite. E quindi mi sento soddisfatto. Lo lascio così. Sono a posto. Torno qua in 2D. E siamo quindi pronti per iniziare. Però, cosa possiamo fare? Come potete vedere, quello che vi dicevo inizialmente. Qui non si riesce praticamente a distinguere queste sprite quali sono, quali non sono. Ma potremmo metterci a rinominare tutto quanto. Oppure, molto semplicemente, possiamo cliccare il tasto destro, fare Create Empty, che crea un GameObject vuoto. Cliccare F2. E F2 non fa altro che permetterci di rinominare il GameObject col nome che vogliamo. E scriviamo qui in maiuscolo Terrain. Questo perché noi utilizziamo praticamente come delle scatole. Se dobbiamo riordinare una stanza, mettiamo all'interno di una scatola tutte le cose relative ad un determinato gruppo di oggetti. La stessa cosa facciamo su Unity. La nostra gerarchia e il nostro oggetto devono essere ordinati. Allora, prendiamo tutti questi file di questi sprite che sono relativi al terreno. Le prendiamo e le mettiamo su Terrain. In questo modo sappiamo che dentro questo contenitore Terrain vi saranno tutte le sprite relative al nostro terreno. e che non ci dovremo più preoccupare di loro a meno che non vogliamo interagire esclusivamente con esse. Ci abbiamo guadagnato in ordine. E per ultima cosa, quello che ci resta da fare è dare un nome significativo al GameObject del giocatore. Allora, le cose che restano da fare adesso è dare un po' di informazioni in più alla nostra sprite, al nostro GameObject del giocatore. Quello che manca è sicuramente il Rigid Body. Che cos'è il Rigid Body? È un componente che comunica a Unity di trattare questo GameObject in maniera responsive, non mi viene la parola in italiano, alla fisica, alla gravità stessa. E questo è un passaggio obbligatorio per dargli anche il Collider. Che cos'è il Collider? Il Collider sono tutti quegli elementi, quelle componenti, che hanno una determinata forma geometrica, che permettono di individuare le collisioni dell'oggetto con altri oggetti. Quindi ogni qualvolta noi vogliamo che un oggetto sia individuabile in termini di collisioni, tra simili o tra oggetti, dobbiamo dargli un Collider. Questo Collider possiamo scegliere una forma qualsiasi, basta cliccare su Add Component, digitare con la parola Collider e escono tutte le nostre forme. Essendo che siamo nel gioco 2D, basterà, non basterà, dovremo utilizzare un Collider 2D. Vi consiglio in questo caso di selezionare il Circle Collider 2D e, come potete vedere, nel nostro editor è comparso un cerchietto verde. Il colore verde, per la convenzione di Unity, è quello che indica tutti i Collider all'interno di Unity. E possiamo praticamente anche agire sulla dimensione e sulla rotazione e posizione di questo Collider. Per esempio, per me è troppo grande, di conseguenza preferisco ridurlo così, per esempio, e spostarlo un po' più verso il centro del giocatore. Questo a piacimento sempre, però io mi trovo bene così. Ok, adesso vediamo un pochettino quello che abbiamo combinato. Sistemiamo di nuovo la telecamera perché se ne è andata un pochettino a quel paese. Eccolo qua, perfetto. Possiamo cliccare Play, vediamo quello che succede sulla base di quello che abbiamo fatto, sulle componenti che abbiamo inserito. Benissimo, il nostro giocatore è cascato giù. Questo come mai? Perché abbiamo detto al giocatore di essere, come dire, reattivo alla fisica, quindi alla gravità stessa. Però effettivamente, essendo in un gioco top-down, teoricamente non dovrebbe esserci la gravità. Il problema qual è? Unity non è che è pronto per gestire giochi top-down. Noi dobbiamo ingannare, diciamo, il Unity e dirgli, sì, sì, questo è un gioco 2D, però è top-down. In che senso? Andiamo ad annullare la gravità. Questo come si fa a fare? Dobbiamo andare su Edit, Project Settings, Physics 2D, E qui, come potete vedere, su, esattamente su Gravity, vi è il valore meno 9,81. Andiamo a mettere un bel zero, perché essendo siamo in un gioco top-down, quindi il nostro gioco sarà sempre che si estenderà sull'asse X e sull'asse Y, ma starà simulando invece una situazione dall'alto. Di conseguenza la gravità non ci serve assolutamente a nulla. Fatto questo, possiamo cliccare Play e vediamo come effettivamente il giocatore non si sposterà da lì. Ora ci resta un ultimo settaggio da fare, e dopo avremo concluso anche per questo video, ed è quello di stabilire i rendering layer. I rendering layer sono delle cose molto importanti per i giochi 2D, e vanno a stabilire, essendo che le immagini 2D sono tutte sullo stesso piano, vanno a stabilire quale, tra le tante immagini 2D che ci sono nel nostro gioco, verranno renderizzate prima. Quindi in questo caso, per esempio, nel nostro gioco, io voglio che l'immagine del giocatore venga renderizzata prima dell'immagine del tile. Questo adesso è una fortuna, perché effettivamente l'abbiamo piazzato noi, ma vi posso assicurare che quando andremo a inserire i game object, per esempio tramite script, questa cosa non sarà ovvia, e dovremo definire per bene i rendering layer. Per fare questo, clicchiamo sul nostro oggetto, sul game object, e andiamo sulla parola Sorting Layer su Sprite Renderer. Clicchiamo qui, e facciamo Add Sorting Layer. Clicchiamo un bel plus, e aggiungiamo un layer, possiamo chiamarlo come voglio, io decido di chiamarlo Up Layer. Ora voglio inserire anche l'altro layer relativo a tutti gli oggetti che sono, per esempio, del terreno, quindi che devono essere visualizzati sullo stesso piano prima degli oggetti come i giocatori o i nemici. E mettiamo qui terreno. Quindi ho creato un layer terreno e ho creato un layer player. Per di renderizzare il layer player prima del render terreno, basterà spostare il layer terreno sopra il layer player. Basta che lo trasciniamo in questo modo, vedete, si sposta molto facilmente. Fatto. Ora dobbiamo impostarlo, quindi dirglielo. Questo oggetto fa parte del Sorting Layer Player, mentre tutti questi oggetti fanno parte del Sorting Layer terreno. Non mi voglio mettere a cliccare tutti i GameObject per fare la stessa operazione. Quindi cosa faccio? Tengo premuto Shift, seleziono il primo, tengo premuto Shift, e vado all'ultimo. In questo modo me li seleziono a tutti, dal primo che ho selezionato all'ultimo, dove ho fatto l'ultimo click. Questa cosa funziona per gli oggetti che hanno le stesse componenti, sul quale posso fare delle operazioni simili. Quindi clicco Sorting Layer e decido di dargli Sorting Layer terreno. Ecco fatto. Ci siamo quindi preparati a quello che è il gioco vero e proprio. Abbiamo sistemato i Sorting Layer, abbiamo sistemato le nostre sprite, siamo pronti per iniziare a scriptare, a fare il primo script. E quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale. Buona giornata a tutti!